È necessario fare chiarezza sulle responsabilità di chi, approfittando dell' difficile momento economico, ha cercato, senza peraltro riuscirci, di trascinare il mondo dell'autotrasporto in una pericolosa avventura senza prospettive. Lo ha chiesto in una nota CNA Fita dell'Emilia Romagna. Secondo il presidente Daniele Giovannini, anche i trasportatori, come quasi tutte le categorie economiche e gli imprenditori di questo paese, hanno ragioni da vendere, costo del lavoro, costo dei carburanti, intermediazione perassitaria, concorrenza sleale di legalità nel settore. Sono solo alcuni dei problemi più impellenti, ma per far valere le proprie ragioni hanno scelto la strada del confronto e non certo quella dello scontro di piazza. Nei giorni scorsi le principali associazioni di categoria del settore aderenti a un'altra seanita, si legge nella nota, hanno ottenuto dal governo delle risposte auspicate, cosa che ha portato alla revoca del fermo nazionale. Sono arrivati infatti la conferma dei 330 milioni di euro destinati all'autotrasporto, nonché ripristino del rimborso delle accise sui carburanti. Sono già stati realizzati i primi incontri sul cabotaggio stradale, sono stati presi impegni per quanto riguarda la riforma dell'albo trasporto e sulla riduzione dei costi inel. Per questi motivi, a detta di Giovannini, per ottenere i risultati di cui la categoria bisogno non è necessario affidarsi a chi ne interpreta le esigenze e non ne condivide gli obiettivi, a chi vuole la rivolta di piazza per il solo gusto di generare confusione e disagi.